Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è tenuto un pomeriggio di dibattito sulle strategie e i percorsi comuni per la salvaguardia del litorale costiero in Campania. Il convegno è stato organizzato nell'ambito degli Stati Generali del Mare dalla delegata del Comune Daniela Villani ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti di diversi enti e istituzioni per condividere un percorso di tutela ambientale e della risorsa mare. Tra Campania è un territorio vasto, noi ne governiamo una parte del litorale costiero, in particolare il litorale costiero napoletano, quell'area che va da Posillipo a Bagnoli, che è una parte pregiata, è un sistema molto più ampio e molto più complesso, sul quale ovviamente dobbiamo lavorare. Credo che bisogna lavorare con tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, dai comuni che compongono il litorale costiero e soprattutto con il Ministro dell'Ambiente per fare in modo che ci sia anche le risorse per poter raggiungere gli obiettivi. L'iniziativa, che ha visto la presenza tra gli altri del sottosegretario all'Ambiente, Salvatore Micillo, è finalizzata all'elaborazione di un manifesto di intenti comuni racchiuso in cinque punti. Sentiamo l'urgenza, appunto, attraverso una condivisione di strategie, di progetti condivisi comuni, di elaborare un manifesto di intenti da porre all'attenzione del Governo Capitolino. Crediamo che sono almeno cinque i passi urgenti e necessari da fare. L'istituzione nazionale di un tavolo sul mare. Chiediamo sempre al Governo nazionale di introdurre, non più rimandabile, su tutto il territorio cittadino delle ore per le scuole di educazione ambientale. Chiediamo ancora l'importanza della sicurezza e del coordinamento della sicurezza per le spiagge nazionali in chiave ambientale. E chiediamo in ultimo la possibilità di avere semplicemente della cartellonistica uniformata dei rifiuti biodegradabili su tutto il territorio nazionale. In questi giorni abbiamo fatto partire un vero e proprio piano Marshall anche per il discesso idrogeologico. Sono circa sei miliardi che diciamo fortemente che le regioni devono inizi a prendere con forza, con i progetti, con la rivalutazione delle nostre coste e ovviamente tutta quella parte in cui l'ISPRA ci dice che l'80% è a rischio idrogeologico. Ovviamente poi partendo dalla funzione più grande che abbiamo, dal tesoro più grande che abbiamo è quello del mare. Il primo decreto nostro è appunto quello del salvamare, ovvero dire ai nostri pescatori portate tutta la plastica che trovate nei nostri mari e portatela sui nostri porti per poter poi iniziare una vera e propria raccolta differenziata anche del mare e questo credo che sia un messaggio importantissimo.